Sua eccellenza l'alto commissario De Bono e sua eccellenza il ministro Ciano inaugurano la nuova strada dei camerè Nepasi, tra le entusiastiche ovazioni delle maestrante. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS